Verticale, persona che raccoglie informazioni in caso di omicidio. Giornalista. Poliziotto. Sacramento che decreta l'unione tra due persone. Matrimonio. Estrema unzione. Scusi, lei chi è? Ispettore Capo Francesco De Mir. Sono sicuro che ci vedremo presto. Vieni a farti il bagno, Miss Italia? Viola! Mi chiamo Viola! Comunque su una cosa c'è ragione. Ci vediamo presto con Viola come il mare. Buon'estate. Scusa, potete giocare un po' più là? Mi arriva la sabbia. Ancora più là, per favore, la sabbia vola. Chi è che viene al mare se non mi sopporto la sabbia? Scusa, è che sto studiando per un nuovo lavoro. Sono Viola. Lavorerò qui come giornalista di nera e sono un po' preoccupata. Sai, mi hanno detto che l'ispettore Capo De Mir ha un po' rompiscatole. Tu invece sei? L'ispettore Capo Francesco De Mir. Ah! Ci vediamo tra poco con Viola come il mare. Buon'estate. Francesca Chilleni, Gianni Aman. In prima assoluta, Viola come il mare. Prossima.